Tutti lì dentro? Sì, certo. 12 clienti in tutto. E come guadagnano? 1.250 a testa, ecco com'è. Ci fa mangiare un Rolex? È uno dei suoi classici. Devi provare la palatabilità della mignonette. Non dire palatabilità. Stasera sarà una follia. Benvenuti. Cercheremo di rendere la vostra serata il più piacevole possibile. Benvenuti a Open. Qui siamo una famiglia. Sì, chef! Raccogliamo, fermentiamo, gelifichiamo. Gelificano? Gelifichiamo. Non è solo uno chef, è un cantastorie. Il gioco è cercare di indovinare quale sia il tema portante di tutta la cena. Non si sa fino alla fine. Lei, chi è? Io sono Margo. Perché le interessa? Devo sapere se è con noi o con loro. Il menù. Sono foto nostre? La lista degli ospiti. Come le hanno avute? Non va bene. L'intera serata. Cristo santo! È solo teatro, pura tecnica. Andiamoci ancora. È stata preparata a regola d'arte. È tutto vero, no? Che cosa succede? Vi offriamo un vantaggio di 45 secondi. Ok. I 45 secondi iniziano ora. Per questo avete pagato. Si tolga di mezzo. Fa tutto parte del menù. Va tutto bene. No, moriremo stanotte. Sì, è vero, è così. Vi avete detto che era il mio compleanno? Sembrava divertente tre ore fa.